C'è grande attenzione intorno all'Ofanto. Il più importante fiume della Puglia nelle ultime ore si è ingrossato, esondando in alcune parti della zona di Canosa e San Ferdinando di Puglia. Il livello di guardia è stato raggiunto a causa delle forti piogge che nelle ultime ore si stanno abbattendo sulla Campania, in particolare nell'area di Avellino, dove il fiume nasce. Nella zona di Canosa è stato avviato il monitoraggio costante delle acque ed attivato un piano di prevenzione da comune, prefettura e regione. Alcune aree di campagna sono state già inondate dall'acqua. Situazione complicata anche a San Ferdinando di Puglia, dopo le sondazioni di questa mattina. La sindaca ariana Camporeale ha firmato un'ordinanza di divieto d'accesso alle contrade Pezza di Pera e Sospiro, in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per le prossime ore. Il bollettino regionale della protezione civile lancia l'allerta gialla ed annuncia forti precipitazioni nella zona del basso Ofanto. Di qui la chiusura dell'accesso alle campagne a ridosso del fiume, già allagate da questa mattina.